Bene, a quanto pare ci siamo, è arrivato il fatidico momento di cominciare. Allora, intanto, come ogni inizio che si rispetti, devo fare tutti i ringraziamenti. Allora, intanto, grazie a voi che siete qua, prima di tutto. Poi, dobbiamo ringraziare il planetario che, come ogni anno ormai, da quanto 10 anni, 12 anni, si ospita con il nostro annuale ciclo di conferenze. Ringraziamo il Gruppo Modenese Scienze Naturali, cioè l'associazione che, non so se l'avete sentito, quella che fa Entomodena, per intenderci, che anche quest'anno ci dà il patrocinio. Ringraziamo Unimore, che anche quest'anno ci dà il patrocinio perché, insomma, noi ne facciamo parte, ma anche altre personalità che, magari, eventualmente, vedrete nelle prossime settimane, ne fanno parte. Ringraziamo il Comune di Modena, che ci ha dato un aiuto, anche abbastanza concreto, stampando le varie locandine, ma, soprattutto, ringraziamo poi i nostri relatori che sono venuti qua, insomma, hanno lavorato, e quindi, poi, vabbè, poi vedrete. Io li ringrazio, poi giudicherete voi. Allora, piccola introduzione al ciclo di quest'anno. Per chi è già venuto negli anni scorsi, noi tendevamo a fare delle conferenze affrontate da due punti di vista, cioè un tema affrontato da due persone, due o più persone, da due punti di vista. Quest'anno il ciclo si chiama Scienza Confini, che vuol dire che noi cerchiamo di andare oltre la normale conferenza, diciamo che cerchiamo di evitare la conferenza accademica. Lo facciamo? Eh, come lo facciamo? Ognuno lo fa. Sì, ecco, noi abbiamo trovato un paio di spedienti, che adesso magari vedrete, ma quest'anno ci siamo proprio dati l'obiettivo di un po' rompere la barriera tra chi parla da questa parte e chi ascolta dalla vostra parte. Quindi cercheremo di coinvolgervi, cercheremo di farlo attivamente, ma anche, appunto, con i temi che noi trattiamo. Ecco, riguardo ai temi che noi trattiamo, introduciamo quello che è il tema di questa sera. Questa sera parliamo della bellezza. Che cos'è la bellezza? Intanto lo chiedo a voi. Quindi, a questo punto chiedo aiuto al tecnico, chiedo aiuto al notaio, e chiedo aiuto a voi, inquadrando questo QR, però c'è anche un codice, tanto ditemi se riuscite a inquadrare il QR, se riuscite a vedere le cose, ce la fate? Ok, perfetto. A questo punto dovreste trovare la possibilità di scrivere qualcosa, giusto? E a questo punto vi chiedo di indicare che cosa per voi è la bellezza. Fatelo scienza confini. Scrivete proprio quello che vi viene in mente. Intanto mettiamo su una musichetta d'ascensore. Oh, abbiamo già un po' di risposte. Allora, io vedo un fiorellino. Qualcuno ha messo l'emoticon di un fiore? Molto bene, molto bene. Vedo alcune cose estremamente interessanti, anche legate al tema di stasera e vedo alcune risposte che noi ovviamente ci aspettavamo, poi dopo vi spiegheremo bene. Allora, partiamo dalla cosa più semplice. Intanto che voi continuate a scrivere natura. La natura è bellezza. Non posso che condividere. Io ci sto dedicando una buona parte della mia vita alla natura e secondo me è assolutamente bellezza. Poi, armonia, grazia, proporzione, emozione, armonioso, ordine. Queste sono tutte effettivamente parole che si legano assolutamente alla bellezza, quantomeno dal punto di vista estetico, giusto per riprendere anche un'altra tematica. E l'estetica sarà ovviamente trattata. E poi ne vedo anche una particolarmente interessante, l'assimmetria e effettivamente è qualche cosa che è già come dire, è già venuto fuori quando insomma quando se ne parlava. Un sorriso un sorriso è sicuramente un'emozione appunto mettiamoci dentro anche questa cosa e avete risposto tutti? Bene, adesso io vedo una cosa un tema che lega tutte queste tutte queste parole tutti questi concetti che è l'uomo. Vedo che la maggior parte delle risposte sono una sono risposte che darebbe un uomo, darebbe una persona. Ora noi siamo tutte persone, siamo tutti esseri umani scusate che con un uomo non voglio escludere voglio semplicemente dire homo sapiens e come homo sapiens effettivamente l'homo sapiens ce l'abbiamo al centro ce l'abbiamo al centro del nostro universo. Questa sera però vogliamo fare un passo ulteriore. Noi ci chiediamo che cos'è la bellezza e che significato ha dal punto di vista di piante di animali e quindi a questo punto direi che ci sono temi che poi dopo insomma che sono già stati introdotti che tratteremo quindi a questo punto direi che se te la senti perfetto allora lascio la parola a Elena. Grazie. Ok effettivamente dobbiamo svelarvi un piccolo segreto perché nelle scorse settimane abbiamo posto questa domanda ad alcune persone a noi un po' più vicine insomma e in effetti alcune delle risposte che sono arrivate si collegano molto bene a quelle che già avevamo ricevuto altre invece appunto sono nuove ma in effetti penso che vi ritroverete molto in quello che adesso vi faremo vedere e dal nostro micro sondaggio diciamo che la primissima risposta arrivata è stata più che altro l'arte e la pittura in particolare e penso che a qualcuno di voi già stasera sia venuto in mente proprio questo quadro la Venere di Botticelli come proprio simbolo di bellezza bellezza femminile ma in realtà è un quadro che richiama anche molto alla natura ci sono diversi elementi naturali che vengono rappresentati qui ovviamente non è l'unica opera d'arte che potremmo citare non posso ovviamente metterle tutte ma giusto qualche duna molto famosa in cui effettivamente la natura è proprio la protagonista è stata una fonte di ispirazione notevole per tutti questi autori e in particolare nella primavera invece di Botticelli che vedete a destra pensate che sono state raffigurate più di 130 specie botaniche differenti mia sorella annuisce quindi sto dicendo una cosa giusta e di fatto appunto qui la natura è davvero la vera protagonista ed è interessante notare come la bellezza stia negli occhi di chi guarda questi quadri ma sia stata anche negli occhi di chi ha dipinto questi quadri e con tratti estremamente diversi sia riuscita a darci una percezione di bellezza comunque molto diversificata un po' come le risposte che abbiamo ricevuto stasera ma fra le risposte ed è questo che è interessante un'amica mi ha detto io se penso alla bellezza penso alle cose simmetriche mi sono sempre piaciute e io sono d'accordo perché in effetti all'occhio umano le simmetrie sono qualcosa che appaiono sempre molto appagante e un senso di ordine piacevole e le simmetrie sono presenti in natura ancora una volta la natura è una fonte di ispirazione per l'uomo pensiamo appunto anche banalmente alle simmetrie delle foglie degli alberi piuttosto che alle simmetrie presenti nelle ali delle farfalle perfettamente speculari e l'uomo ha deciso appunto di sfruttare questa ispirazione anche portando le simmetrie ad esempio nell'architettura quanti elementi architettonici appunto oppure anche i giardini per esempio molto spesso anche i propri giardini italiani tradizionali sono sempre simmetrici pensando alla bellezza però alcuni hanno anche pensato ai fiori e più in generale alle cose colorate anche in questo caso i colori sono qualcosa che per noi sono piacevoli ci danno allegria ci danno un senso di armonia e di nuovo i colori che vediamo in natura abbiamo appunto avuto modo di riportarli poi anche in elementi antropici questo è Burano ma in realtà pensiamo anche a Innsbruck ci sono tante città in cui gli edifici sono particolarmente colorati e appunto ancora una volta possiamo ammirare dei bellissimi colori anche nei fiori qualcuno mi ha anche detto se penso alla bellezza penso al sole più che al sole come stella credo che si parlasse di quella luce del sole che possiamo percepire magari in un bel pomeriggio primaverile magari godendoci l'aria aperta oppure appunto anche quella parte emozionale che effettivamente un senso di bellezza ci può dare quindi appunto iniziamo già a percepire la bellezza non solo da un punto di vista estetico ma anche appunto più spirituale ed emozionale appunto diciamo che nella nostra classifica delle sette meraviglie del mondo che sono queste abbiamo posizionato sette paesaggi naturali a dir poco mozzafiato però ecco nessuno ha azzardato a dirmi se penso alla bellezza penso al corpo ecco l'unica è stata la mia collega devo dire a cui ho chiesto ma Sabria cosa pensi se ti dico la parola bellezza io io penso ad Aquaman e di fatto non potevo non mettere Aquaman nelle slide quindi non possiamo desimerci dal fatto che noi umani ma in realtà anche nel regno animale la bellezza si percepisca anche da un punto di vista puramente fisico nella figura del corpo umano dell'uomo e della donna e questo era giusto per dare un'idea a quelli che possono essere forse i sex symbols più attuali ma in realtà i canoni gli ideali di bellezza sono cambiati tantissimo nel tempo pensiamo al classico esempio della venere di Willendorf figura femminile ritenuta bella proprio perché indice di prosperità quindi forme abbondanti e prosperose ma una bellezza femminile che poi si è completamente trasformata per esempio nell'età vittoriana dove era più di moda un incarnato molto chiaro acconciature molto articolate e pensiamo anche appunto ai busti alle gonne sfarzose quindi un'accentuazione delle forme femminili molto diversa da quella invece della venere di Willendorf e la stessa cosa vale ovviamente per l'uomo nel 1700 erano molto utilizzate le parrucche indice di bellezza anche da un punto di vista sociale nel senso che indicavano l'appartenenza ad un ceto sociale nobile ma siamo passati poi ad un ideale di bellezza legata più ad un fisico scolpito quindi addirittura anche magari al culturismo se dovessimo forse rappresentare un ideale di bellezza più attuale odierno forse questa potrebbe essere una fotografia adatta al di là di preferenze e gusti personali c'è chi preferisce i mori chi preferisce i biondi questo sicuramente ma di fatto penso che chiedendo ad ognuno di voi in sala probabilmente nessuno mi direbbe no questi due modelli non sono belli quindi diciamo che in generale comunque a livello proprio fisico si può percepire una bellezza che non per forza deve essere attraente non per forza deve esserci un'attrazione però si può oggettivamente anche dire che una figura una forma è bella e in effetti mi ricollego alle vostre risposte qualcuno ha parlato anche di proporzione e quindi ancora una volta magari forme e misure proporzionate possono rendere una cosa più o meno armoniosa e anche qui però dipende sempre da un fattore soggettivo quello che abbiamo un po' dedotto in realtà da questo microsondaggio in realtà è che l'uomo percepisce la bellezza primariamente con il senso della vista è il nostro senso più sviluppato e se ci pensate molte delle cose che abbiamo riproposto anche stasera sono proprio legate al senso visivo ovviamente la bellezza non si percepisce solo con il senso della vista e per articolare meglio il discorso forse potremmo partire proprio dalla definizione che il dizionario ci propone il termine bellezza viene definito così l'essere bello qualità di ciò che è bello o che tale appare ai sensi e allo spirito quindi ritornano ovviamente i cinque sensi ma anche lo spirito perciò quel livello emozionale con cui possiamo percepire di nuovo la bellezza penso di poter spiegare molto velocemente con questa slide molto patriottica per noi modenesi un po' questo concetto quindi utilizzare i cinque sensi a tutto tondo per poter percepire bellezza quindi pensiamo a un piatto di tortellini che possiamo tranquillamente gustare quindi percepirne una bellezza gustativa ma di fatto anche olfattiva sentendo il profumo e in realtà anche visiva direi oppure pensiamo ad esempio alla calda voce di Pavarotti piuttosto che al rombo della Ferrari ed è molto bello ricordarsi che in realtà questi sensi si possono anche combinare perfettamente e quindi sentendo il rombo della Ferrari in realtà tutti ci stiamo già immaginando il rosso fiammeggiante sulle piste ecco diciamo che come umani abbiamo una vasta gamma di sensi a disposizione riusciamo a percepire la bellezza in tanti modi questo sì ma di fatto rispetto al regno animale e vegetale ci manca qualcosa siamo un pochino limitati in alcune cose in altre meno e quindi adesso facciamo un po' un tour pensiamo ad esempio alla percezione dei colori che appunto sono stati un tema centrale anche tra le vostre risposte ecco noi umani abbiamo la possibilità di vedere diverse lunghezze d'onda diversi colori appunto ma ci sono organismi come ad esempio gli uccelli che possono percepire ad esempio le lunghezze d'onda degli ultravioletti che noi non possiamo assolutamente vedere scusate ecco diciamo che il risultato di questa percezione potrebbe essere più o meno questo uno storno noi lo vediamo come nell'immagine di destra sicuramente un animale bellissimo vi invito ogni tanto a guardare online per esempio le foto degli animali da vicino piuttosto che in natura osservarli anche col binocolo perché appaiono dettagli che da lontano non si possono vedere ma se uno storno si guardasse allo specchio probabilmente si vedrebbe come nella foto di destra perché appunto ha possibilità tramite la visione diciamo degli uv di vedere riflessi e colori che appunto per noi non sono percepibili ma in realtà gli uccelli non sono gli unici a poter vedere gli uv perché anche le api possono vedere queste lunghezze d'onda e da ciò risulta una visione dei fiori più o meno come questa in questo studio hanno cercato proprio di riprodurre utilizzando delle lampade la visione dei fiori come potrebbe vederli un'ape e in questo caso diciamo che sono delle vere e proprie piste di atterraggio cioè l'ape sa già dove troverà il nettare e quindi è molto interessante vedere anche questa intensità che spicca proprio negli elementi fiorali contenenti il nettare però visto che vi vedo un po' rilassati vi propongo un quiz ricordatevi che vogliamo capire come gli animali percepiscono la bellezza e dunque cerchiamo di pensare come loro quanti insetti vedete voi nelle due figure nelle due foto se qualcuno vuole lanciarsi ho sentito neanche uno ottimo siete un pubblico preparatissimo e in realtà questo genere di orchidea infatti è molto famoso proprio perché decide di simulare le forme e i colori delle femmine di alcune specie di menoscere quindi comunque insetti anche impollinatori ed è strabiliante vedere comunque la somiglianza cioè dobbiamo immaginarci di percepire questo dal punto di vista di un insetto quindi di fatto i maschi di queste specie sono molto attirati dalla bellezza di queste forme dai colori li percepiscono comunque simili alle loro femmine quindi subito cercano di accoppiarsi con il labello dell'orchidea ovviamente questo movimento permetterà all'orchidea di essere impollinata ma non è tutto oro quel che luccica questo tipo di strategia può essere utilizzata anche per un altro obiettivo direi che il nostro occhio possa percepire pian piano la presenza dell'amante di orchidea in questa foto quindi un insetto che riesce appunto simulando colore e anche un po' forma del fiore dell'orchidea appunto riesce diciamo a nascondersi e quindi non farsi vedere da chi deciderà di visitare quest'orchidea e magari farsi un bello snack la cosa interessante è che le api oltre a percepire gli uv e in questo caso anche i bombi hanno la capacità di percepire anche le cariche elettriche sembra che possano farlo grazie ai peli presenti sul loro tegumento ed è una capacità che per noi è un po' difficile da immaginare o meglio anche noi possiamo un po' percepire la carica elettrica generalmente ci consigliano di strofinarci il palloncino sui vestiti ecco in realtà le api non hanno bisogno di andare a contatto con il fiore per percepire questo potenziale elettrico riescono a percepirlo anche senza adagiarsi sul fiore e di conseguenza decidere se andare a cercare il nettare oppure non sprecare energie e andare da altre parti perché il potenziale del fiore quando visitato da un insetto cambia e quindi loro possono percepirlo già con un po' di anticipo diciamo se parliamo di elettricità possiamo un po' ricollegarci anche alla percezione delle onde elettromagnetiche uno degli esempi classici è lo squalo ma non è l'unico che ha questa capacità in acqua molto spesso grazie a dei particolari recettori di senso che sono le ampolle del Lorenzini e anche la linea laterale posti rispettivamente sul capo dell'animale e invece longitudinalmente sul resto del corpo questi animali possono percepire le onde elettromagnetiche appunto e in realtà possiamo un po' immaginarcela così come noi magari seguendo il profumo del piatto di tortellini arriviamo in cucina dritti al punto lo squalo percependo queste onde riesce a direzionare il nuoto verso la sua verso la sua preda verso il suo piatto di tortellini effettivamente un esempio forse simile è quello dei pipistrelli in questo caso non si tratta di onde elettromagnetiche ma si tratta di ecolocalizzazione in questo caso il pipistrello funge sia da sorgente che da diciamo percettore perché emette innanzitutto degli ultrasuoni quindi anche in questo caso frequenze che noi non possiamo percepire questi ultrasuoni andranno a rimbalzare contro una sua possibile preda tornando a lui il pipistrello capirà in che direzione rivolgere il volo e quindi andarsi a fare una merendina però torniamo un pochino a cosa possiamo percepire anche noi umani sicuramente i profumi ecco forse i profumi non sono stati citati nelle risposte ma ovviamente sono associati ai fiori e in generale alla natura le molecole odorose che possiamo percepire a livello olfattivo appartengono principalmente a queste tre categorie di composti organici e molto spesso quello che varia molto la fragranza che possiamo percepire sono le concentrazioni di queste molecole nei vari mix di essenze ma anche in questo caso la percezione umana è un pochino limitata vi ho messo giusto un'immagine di confronto del bulbo olfattivo tra cane e umano è solo un disegno quindi diciamo che è un po' difficile riuscire a percepire la reale differenza ma sicuramente un dato importante è quello della superficie della mucosa olfattiva quella dell'uomo è in media di circa 3-4 cm2 pensate che quella del cane ovviamente dipende dalla taglia del cane ma può arrivare fino a 150 cm2 e ovviamente in questo modo ha la possibilità di percepire non solo più molecole odorose ma anche a concentrazioni più basse rispetto a quelle che possiamo sentire noi ma vi stupirà forse o forse no sapere che il primato in questo campo ce l'hanno gli elefanti africani a quanto pare e perché grazie alla loro lunga proboscide appunto hanno una capacità olfattiva sembra ancora maggiore e anche una memoria olfattiva maggiore pensate che è stato studiato che possiedono nel loro DNA quasi 2000 geni deputati proprio alla ricezione olfattiva e per farvi un po' un paragone nel cane sono circa 1000 e nell'uomo sono circa 400 quindi una differenza secondo me notevole quindi in questo caso vale la correlazione naso più grande più profumi si possono sentire ecco in realtà anche sui profumi ovviamente c'è una certa soggettività perché ad esempio tra insetti molto affini questi sono tutte mosche a dire il vero anche se qualche duna sembra un'ape non si legge bene il nome forse di mosca domestica comunque quella al centro è la mosca che tutti conosciamo e sappiamo avere preferenze anche un po' particolari in quanto a profumi preferisce molecole più dolciastre e acidule che forse non sono proprio nei nostri ranghi ma in realtà ad esempio i sirfidi che sono sempre mosche ma impollinatrici di fatto percepiscono e preferiscono dei profumi che sono anche più simili a quelli che piacciono a noi e vanno tipicamente nei fiori poi c'è anche qualcuno che semplicemente decide di profumarsi gli piace profumarsi fa un bel giro fra i fiori si profuma per essere poi più bello e attraente per la femmina della stessa specie questo è un caso molto particolare di euglossa dilemma detta anche comunemente ape verde che appunto semplicemente ha questo comportamento per diciamo piacevole profumazione se parliamo di percezione della bellezza ricordandoci anche ad esempio della voce di Pavarotti dobbiamo assolutamente parlare anche di bioacustica disciplina che si occupa principalmente di studiare i vocalizzi degli uccelli ecco gli uccelli diciamo sono noti per avere dei vocalizzi comunque molto melodiosi molto dolci che spesso hanno anche una funzione poi utile in accoppiamento e questa loro capacità è proprio dovuta al loro apparato che gli consente di vocalizzare nell'uomo come vedete qui a sinistra la laringe che è appunto deputata alla vocalizzazione è localizzata molto in alto molto in alto sopra alla trachea mentre negli uccelli l'apparato diciamo analogo che si chiama siringe è localizzato invece molto in basso al di sotto della trachea inoltre hanno delle sacche da aria diciamo che anatomicamente sono presenti nell'uccello ma non entro in tecnicismi questo gli consente di avere un'ampia gamma di vocalizzazioni e quindi abbiamo tantissimi esempi come può essere quello dell'usignolo usignolo comune di canti particolarmente dolci e melodiosi che sono belli per l'uomo e poi sono belli anche per le femmine di queste specie ecco poi torniamo invece all'ambito forse un pochettino più imbarazzante ma in realtà imbarazzante non è perché il dimorfismo sessuale c'è nell'uomo e c'è anche nel regno animale e abbiamo detto appunto che la bellezza si può percepire anche semplicemente a livello fisico questa foto in realtà la trovate su google se scrivete dimorfismo sessuale quindi l'ho messa per questo motivo un po' scioccante e niente in realtà vabbè anche qui non mi soffermo tanto abbiamo caratteri sessuali secondari molto diversi tra uomo e donna e la stessa cosa succede anche negli animali in questo caso però ho riportato giusto qualche esempio come il daino che oltre ad avere ovviamente una dimensione corporea più imponente il maschio presenta anche due palchi tra l'altro molto particolari quelli del daino ovviamente vale la stessa cosa per il cervo ma ad esempio anche il germano reale che vediamo anche nei laghetti qui da noi il maschio ha una livrea più particolare più colorata più appariscente mentre la femmina ha mantenuto invece una livrea più neutra e sobria proprio per cercare di nascondersi meglio e poi ci sono due esempi invece interessanti il primo sono gli uccelli del paradiso in questo gruppo di specie perché in realtà sono diverse le specie di uccelli del paradiso c'è un dimorfismo sessuale spiccatissimo i maschi hanno un piumaggio particolarmente esuberante a volte anche con colori appunto sgargianti mentre le femmine appunto molto neutre e molto sobrie ecco il problema può diventare come nel loro caso che le femmine sono talmente neutre e talmente poco differenziate che i maschi a volte non riconoscono le femmine della loro stessa specie quindi c'è un alto livello di ibridazione ossia accoppiamento tra maschio di una specie e femmina di un'altra specie infine un esempio super didattico chi ha studiato biologia mi starà odiando ma sappiate che bonellia viridis non è un alieno è un animale marino che abbiamo nei fondali del mediterraneo e quindi vi chiedo quanti individui vedete nella foto di bonellia due? ne vedete due o pensate che siano due? allora beh in realtà vabbè la risposta è quasi giusta in realtà se ne vede uno di fatto che è la femmina perché il corpo è unico cioè la proboscide è attaccata alla parte più rotondeggiante ok il maschio c'è ma non lo possiamo vedere perché è all'interno del corpo della femmina e vive all'interno come simbionte con l'umilissimo compito di produrre gameti per poi riprodursi sessualmente con la femmina e la cosa interessante è che questo dimorfismo sessuale estremo è anche particolare perché in questa specie la determinazione del sesso avviene proprio in base a dove atterra il nuovo embrione cioè immaginatevi che l'embrione formato dall'unione dei gameti fuoriesca dalla proboscide della femmina flutti un pochino nell'acqua del mare a un certo punto decada verso il fondo potrebbe o cadere e atterrare sul fondale marino e in questo caso si svilupperà una femmina come quella se invece casualmente cade sulla proboscide di una femmina verrà internalizzato praticamente e diventerà un maschio simbionte della femmina dopo avervi stupito un po' con questo esempio passo invece la parola a Samuel allora avendo visto adesso diciamo tutte queste strutture completamente anatomiche che gli animali possono andare a sviluppare e andare a sviluppare delle vere e proprie differenze che ci sono tra il maschio e la femmina ora ci soffermiamo di più su tutti quegli investimenti energetici che gli animali devono svolgere per riuscire a compiere determinate azioni oppure per riuscire a semplicemente soddisfare delle loro necessità che possono essere di varia natura possono essere totalmente diciamo legate alla riproduzione legate all'alimentazione o magari anche alla protezione magari degli individui stessi o della prole quindi come vi posso far vedere qui nell'immagine sulla sinistra questo è un termitaio penso che molti lo riconoscano è una struttura che viene adoperata appunto da delle termiti per andare a proteggere tutto l'intero ecosistema che loro hanno costruito e inoltre anche la futura prole diciamo la futura progenie che si schiuderà dalle uova mentre quello che vediamo lassù in alto se riesco a indicarlo è il nido chiaramente di una cicogna che chiaramente è un animale che tendenzialmente va a sviluppare i suoi nidi diciamo nelle strutture più antropizzate magari si vede specialmente appoggiata su dei camini eccetera quindi la parte delle costruzioni nel regno animale è una parte molto importante perché appunto è tutto ciò che gli animali utilizzano che non è diciamo una componente del loro organismo quindi non è una parte anatomica per andare a svolgere queste funzioni un esempio molto importante che sicuramente molti di voi conosceranno è l'uccello giardiniere l'uccello giardiniere con questo nome davvero orrendo Ptilonoricious violaceus ha la peculiarità di andare a creare queste strutture questi nidi lui semplicemente va a cercare degli spiazzi in mezzo alla vegetazione dove non ci sono altre piante e con molta cautela va a posizionare tutta una serie di rametti nella zona centrale in modo da disporli come se fosse si creasse diciamo una sorta di trono centrale e poi con molta accuratezza anche va a disporre una serie di oggetti sempre di colore blu come potete notare nei dintorni del perimetro della corona centrale la peculiarità però è che lui va a utilizzare come si può notare in questa in questa immagine una serie di oggetti che sono per noi rifiuti banalmente possono essere candele usate possono essere tappi oppure persino pezzi di stoffa l'importante è che siano di colore blu non importa e lui tutte queste diciamo decorazioni abbellimenti li va ad utilizzare per andare ad incantare il partner femminile perché tendenzialmente è sempre il maschio che va ad operare in tutte le costruzioni che andremo a vedere successivamente va diciamo ad indurre nella femmina la possibilità di riprodursi va a tentarla ecco uno dirà vabbè non so che fascino ci sia ad usare dei tappi di bottiglia per attrarre un partner a quanto pare invece funziona un altro esempio invece ricollegandoci diciamo alla voleria viridis di prima al famoso alieno degli oceani ecco non ci occupiamo di alieni anche se effettivamente siamo nel planetario sarebbe azzeccatissima come collegamento però i famosi cerchi nel grano diciamo che potenzialmente sono fatti da extraterrestri ma noi non entriamo nei dettagli sono riconducibili anche a strutture molto simili che ritroviamo nella sabbia negli oceani tendenzialmente questo è il famoso pesce palla giapponese sicuro molti di voi l'avranno sentito perché ogni tre per due qualcuno muore perché lo mangia in maniera sbagliata però il takifu rubipes ha la peculiarità che anche lui come per l'uccello giardiniere deve andare a creare delle strutture sulla superficie della sabbia in mezzo all'oceano per andare a attirare la femmina qui la peculiarità è che va a creare una serie di strutture circolari concentriche dentro le quali va a inserire delle scanalature che crea lui stesso tramite l'utilizzo di pinne oppure della struttura del proprio corpo per andare a creare tutta una serie di frastagliature scaranature e qualora la femmina dovesse andare ad apprezzare tutta questa serie di strutture allora in quel caso potrà riprodursi anche lui qui invece vi ho portato altri due esempi che sono contemporaneamente due strutture però sono due strutture che svolgono funzioni completamente diverse quella sulla sinistra è una teca di mantide dove qui possiamo vedere una mantide dove all'interno appunto sono contenute tutta una serie di uova che quando ci sarà più caldo si schiuderà mentre sulla destra vediamo un nido di vespa quello lì è un eomenino dove all'interno chiaramente la preda scusate la vespa va a deporre una preda che può essere un bruco può essere un'altra forma di vita tendenzialmente un bruco e ci verrà deposta dentro un uovo che quando si schiuderà si andrà a nutrire direttamente del bruco che è stato inserito ora io ho una domanda per voi quale tra queste due strutture vi piace di più quella di sinistra o quella di destra? quella di destra chiaramente potremmo dire anche perché piacerebbe una struttura così ma la funzionalità diciamo che qui fa da padrona perché l'obiettivo diciamo dell'uccello giardiniere è quello come vi ho già detto di andarsi a riprodurre quindi cercare un partner il partner lo deve conquistare chiaramente deve andare a far sì che la femmina decida di riprodursi con lui perché? perché ha fatto un bellissimo giardino fatto di rifiuti molto interessante mentre l'obiettivo della struttura di sinistra non è quello di andare a cercare un partner bensì è quello di difendere la prole cercare di proteggere il più possibile per far sì che poi possa raggiungere allo sfarfallamento possa raggiungere diciamo alla fase di adulto quindi diciamo che il nido di vespa che vedete qui è stato messo in quella posizione apposta perché sia nascosto dalla visione di eventuali predatori o qualsiasi altro organismo che cerca di cacciarlo questo ci porta diciamo alla situazione attuale che ogni animale deve scendere a patti significa che deve attuare un compromesso in natura ne esistono tantissimi di compromessi di svariati tipi quello che interessa a noi oggi è il compromesso tra bellezza e fitness la fitness diciamo che non è il concetto per il quale una persona deve andare in palestra allenarsi per rendersi bello quasi diciamo che la fitness è la capacità di un individuo di mandare e tramandare i propri geni nella generazione successiva quindi semplicemente procreare e creare dei figli questo è l'obiettivo di molti degli organismi diciamo che troviamo in natura però il compromesso deve scendere cioè l'animale deve scendere a patti con il compromesso proprio perché se no ne va della propria vita chiaramente ovvero questi sono tre parametri fondamentali che ogni organismo deve tenere in considerazione chiaramente nessun organismo se mai ci fosse la possibilità di chiedere vi dirà eh sì io ho deciso di abbassare la bellezza per eventualmente abbassare la capacità di essere predato almeno 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 possibile no chiaramente questi sono concetti scientifici prettamente scientifici che servono per spiegare questi questi avvenimenti prendendo diciamo in considerazione l'evento dell'uccello giardiniere di prima in quel caso lui eh tenderà ad alzare il parametro della bellezza al massimo andando ad abbellire la propria struttura eh al meglio delle sue possibilità aumentando però anche la possibilità di eh sia trovare un partner che trovare un eventuale predatore perché la capacità diciamo che un partner quindi un individuo femminile riesca a trovare eh quel nido di dell'uccello giardiniere è la stessa che un predatore eh ha per trovare lo stesso nido quindi metta a rischio e a repentaglio la propria vita allo stesso tempo questo concetto ci porta alla questione della selezione sessuale in natura tutti gli avvenimenti diciamo e tutti gli avvenimenti la maggior parte degli avvenimenti o perlomeno quelli più stravaganti come a vedere questo pavone ricadono all'interno del concetto della teoria della selezione sessuale la selezione sessuale per chi magari già la conosce buon per lui però ve lo metto qui come cenno questa è una teoria che fece Darwin uno dei più grandi naturalisti eh che sono esistiti questa teoria lui la utilizzò innanzitutto per andare a spiegare tutte quelle caratteristiche quelle peculiarità che non riusciva a spiegarsi tramite il concetto di selezione naturale voi sapete che la selezione naturale è diciamo la capacità di un organismo di riuscire a sviluppare caratteri per poi sopravvivere in natura ecco quando lui vide il pavone inizialmente si domandò come mai tutti questi bei colori e queste belle piume gli servono per sopravvivere ebbene non gli servono per sopravvivere perché sono tutti caratteri estremizzati apposta per far sì che lui possa riprodursi quindi come dice qui questa non dipende da una lotta per l'esistenza ma da una lotta tra i maschi per il possesso delle femmine e il risultato non è la morte del competitore sconfitto bensì la scarsità o d'assenza di prole significa che non c'è una vera competizione diretta uno scontro tra due individui maschi ma è semplicemente la scelta di una femmina nel carattere che lei percepisce come più bello tra due potenziali maschi e qui appunto rientriamo all'interno della caratteristica principale ovvero è la femmina che va a scegliere il carattere che più le piace quindi è lei che decide quale maschio è potenzialmente più bello con la quale poi si andrà a riprodurre successivamente però gli scienziati non sono d'accordo o quantomeno non gli basta questa definizione vogliono andare più a succo più in profondità quindi si sono dati tre teorie principali per la quale una femmina potrebbe potenzialmente sceglierle o quantomeno sono interessi diciamo intrinseci della femmina che va a selezionare a sua insaputa queste caratteristiche il primo è la caratteristica del compagno sano ovvero una femmina vede un carattere che le piace mettiamo conto che abbiamo sempre davanti l'esempio del pavone un pavone femmina nota una bellissima coda con tantissimi colori verde blu eccetera e decide di andarsi a riprodurre con lui perché? perché presume che quel compagno sia molto sano abbia delle caratteristiche peculiari per far sì che abbia sviluppato e investito un certo quantitativo di energie per andare a creare questa coda questa coda che effettivamente non gli serve a niente se non per far colpo sulla femmina stessa cosa per i geni buoni la teoria dei geni buoni presume che i geni che hanno generato diciamo questa coda così sfarzosa e così bella siano in grado di andare a creare un individuo che sia forte e robusto per la generazione successiva quindi la femmina vedendo quel carattere potrebbe pensare diciamo di conseguenza a questa caratteristica infine l'ultimo è il famoso ciclo autocatalitico ovvero è un ciclo quindi una cosa che si sussegue all'infinito per il quale un maschio sviluppa un carattere la femmina lo seleziona e di conseguenza questo qui andrà all'infinito quindi il maschio lo svilupperà la femmina lo sceglierà eccetera eccetera la capacità diciamo della selezione naturale della selezione sessuale in natura sono vastissime cioè basta pensare che stimate nel mondo ci siano più o meno sei milioni di specie per la maggior parte insetti ma comunque sono sei milioni di specie e tutto questo ricade all'interno del concetto della biodiversità la biodiversità lo riassumo in breve diciamo è la quantità di specie che ci sono all'interno di un determinato territorio di una determinata area che può essere un giardino può essere un lago una montagna o tutto il globo è stato studiato diciamo che la biodiversità potenzialmente va a intaccare il concetto di bellezza ora io ho un'altra domanda per voi poi giuro che la smetto quale tra queste due foto vi piace di più quella a destra anche qui mi viene da dire chiaramente perché perché ci sono più colori perché è più vivace ci sono un po' più di strutture piuttosto che questo bellissimo chiaramente è però un prato completamente verde un po' anonimo diciamo questo ci porta alla conclusione ovvero la biodiversità è uguale alla bellezza è stato studiato tramite un concetto molto interessante dell'ecologia del paesaggio come effettivamente l'uomo sia in grado di percepire la biodiversità come una fonte di bellezza non perché magari ci siano caratteristiche così peculiare ma il fatto semplicemente che lui possa andare a ritrovare i colori come abbiamo visto prima con Elena la capacità che l'uomo ha di vedere di percepire la bellezza è primariamente diciamo tramite la vista almeno solitamente così ma anche perché una vastissima capacità di forme di organismi ha la possibilità diciamo di introdurre una ricchezza in specie quindi sviluppare molteplici interessi che possono variare dall'ambito botanico dall'ambito faunistico zoologico o qualsiasi tipologia di qualsiasi cosa possa appassionare l'uomo diciamo e quindi chiaramente di conseguenza come ho detto prima ricade nel concetto di 6 milioni di specie stimate però effettivamente tornando al concetto che volevamo domandarci noi inizialmente era gli animali riescono effettivamente a percepire la bellezza oppure no allora questa è una domanda molto complessa chiaramente se riuscissimo a rispondere probabilmente arriverebbe un Nobel veramente perché non è molto facile rispondere però noi sappiamo che è già difficile rispondere alla domanda cos'è bello per una persona di fatto probabilmente non esiste nulla al mondo che metterà d'accordo tutti 8 miliardi di persone che ci sono sul fatto che una cosa è bella la bellezza è totalmente soggettiva e quindi ogni individuo avrà scelte e preferenze rispetto ad altri altrettanto quindi è difficile riuscire ad immedesimarsi ad entrare nel cervello di altri animali andando a capire cosa potesse piacere effettivamente a loro o meno per non parlare diciamo della difficoltà di riuscire ad analizzare il pensiero di una pianta adesso non so quanti di voi diciamo sanno che le piante pensano io non lo so per dire diciamo che anatomicamente non possiedono nessun sistema nervoso e quindi non sono in grado effettivamente di esprimere concetti come bellezza eccetera però non si sa mai che magari qualcuno studi in futuro questo concetto perciò diciamo che l'uomo ha sempre il puntino il pallino fisso di andare ad interpretare ciò che vede in una maniera fissa diciamo cercare di analizzare in maniera oggettiva ciò che sta sta osservando il problema è che vuole sempre dare una motivazione a tutto ciò che vede ma magari in quell'istante la motivazione non c'è o quantomeno è talmente celata che è possibile non ci sia ovvero magari l'uccello giardiniere di prima non va a pensare effettivamente ah sì guarda che bello quello lì ha fatto un giardino così perché ha tante energie e quindi no magari dice è semplicemente bello voglio riprodurmi con lui è molto più semplice magari il concetto è solo l'uomo che si vuole andare ad incapponire in queste situazioni cercando una risposta anche più complessa di quello che magari è in realtà detto questo io rilascio la parola a Niccolò niente quindi lo scopo di stasera era non darvi delle risposte ma farvi venire altre domande ecco speriamo di esserci riusciti diciamo che quello che vince è che è estremamente difficile anche solo definire il concetto di bellezza perché la bellezza è una cosa totalmente soggettiva soprattutto per noi e in natura è una cosa estremamente legata alla funzione ecco quindi quello che noi soprattutto speriamo di avervi trasmesso è che la natura va guardata con gli occhi della natura noi la guardiamo spesso con gli occhi dell'uomo ma quello che possiamo fare è cercare di passatemi il termine empatizzare un po' con la natura e cercare di vedere le cose un po' più come le vedrebbe come le vedrebbe un insetto noi ci proviamo tutti i giorni noi lavoriamo noi siamo proprio entomologi lavoriamo e studiamo insomma gli insetti e insomma proviamo a farlo un po' tutti i giorni ecco con questo ringrazio tantissimo voi che siete stati qua speriamo che gli argomenti che abbiamo trattato vi siano piaciuti prima di di chiudere e lasciare soprattutto lasciare chiudere insomma quello che dico io e lasciare spazio alle vostre domande intanto pensateci vi ricordo il prossimo appuntamento dell'11 di aprile in cui parleremo di appunti di storia della scienza poi adesso inviterò poi il nostro il nostro presidente dopo a raccontarvi un po' insomma un po' di che cosa si parlerà intanto a questo punto se avete delle domande noi proveremo a rispondere grazie arriviamo grazie più che una domanda è una domanda aperta è un'osservazione abbiamo parlato di dimorfismo sessuale e abbiamo visto come negli animali sia sempre il maschio che cerca di rendersi appariscente e di conquistare la femmina rendendosi bello ed essendo più colorato come mai nell'uomo invece è il contrario ed è la donna che si trucca si rende più appariscente e si fa bella per l'uomo cioè se è vera sia nell'animale che alla fine anche nell'uomo la famosa teoria del basta che respiri diciamo così come mai continua a essere il contrario nell'uomo che rispetta l'animale sì vuoi tentare io vai vai in realtà cioè per cominciare l'uomo è un animale complessissimo cioè è sempre un po' un'eccezione gli scienziati lo tengono sempre da parte da qualsiasi discorso dico bene diciamo che vabbè in natura funziona così perché di fatto proprio la funzionalità e poi i compiti che hanno maschio e femmina sono diversi mettono energie diverse anche per la costituzione della prole e effettivamente lo stesso vale nell'uomo quindi in realtà questa domanda me la pongo tantissimo anch'io me la sono sempre posta non ho una c'è una risposta diciamo effettivamente oggettiva e scientifica in realtà non so neanche se ci sia cioè se abbiano mai fatto degli studi relativamente a questo però rimane in realtà vero anche nell'uomo che è la scelta della femmina che poi va ad influire sulla sulla continuità della specie quindi noi possiamo truccarci abbellirci e insomma cercare di farci notare ma di fatto poi è sempre la scelta del maschio che facciamo noi che ci permette alla specie umana di progredire quindi in realtà saranno sempre i caratteri del maschio che verranno in questo senso selezionati non so se abbiamo un'aggiunta da fare sì io a me viene insomma una riflessione allora l'uomo è un animale sociale la protezione dell'individuo non è solo a carico dell'individuo stesso ma è a carico del gruppo sociale diciamo del branco mettiamola così poi noi siamo tutta una serie di branchi siamo tutta una serie di branchi che si sono evolute in tribù già all'epoca delle tribù ancestrali la difesa dell'individuo era proprio affidata al gruppo e abbiamo visto esempio degli uccelli il maschio coloratissimo pieno di piume pieno di fronzoli la femmina invece è tutta un po' più insomma nascosta un po' più colori mimetici diciamo criptici la ragione è un po' questa le donne le donne le femmine della specie homo sapiens possono permettersi di avere tutti i colori che al di là poi della funzione del trucco per apparire più belli all'interno della stessa specie diciamo che noi uomini possiamo permetterci come individui di essere più belli perché appunto abbiamo tutta una serie di costruzioni sempre tornando al tema che diceva Samuel che sono le città che ci danno protezione quindi diciamo non c'è una risposta univo che ci sono tutta una serie di risposte però insomma diciamo che se tutti i trucchi non è che passi e una tigra ti vede di più ecco mentre invece probabilmente insomma un uccello del paradiso potrebbe essere così avete altre domande vai mettici in difficoltà l'uccello giardiniere prima di avere i tappi di bottiglia che cosa diavolo usava? questa è una bellissima domanda effettivamente però diciamo che allora con l'avvento diciamo dell'uomo l'inquinamento chiaramente si è espanso e quindi ora attualmente per lui è facilissimo reperire oggetti di questo genere però prima probabilmente utilizzava una serie di colori sempre blu poi io adesso ho analizzato solo il blu esatto 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 io adesso ho analizzato diciamo solo uno delle tantissime specie di uccelli giardiniere il bel è che ogni uccello giardiniere ha la propria peculiarità cambia magari il tipo di struttura iniziale cambia magari i colori che utilizza cambia magari anche il comportamento perché magari va a fare una danza o meno questo qui non lo specifico adesso effettivamente non ti so dire cosa utilizzasse prima però presumo usasse solo dei fiori blu ma anche senza esagerare come ha fatto quello lì l'esagerazione serve per come ho detto prima estremizzare diciamo avere la possibilità la certezza di andare a riprodursi probabilmente prima utilizzava semplicemente dei colori blu tipo un petalo dei fiori magari spezzettava gli stessi fiori per avere più petali capito in questa maniera prego allora questa domanda mi ha fatto venire in mente un'altra domanda che effettivamente ci ho pensato in questo momento il fatto che esistano dei materiali che prima non c'erano quindi la plastica blu per esempio ha avuto un effetto sulla selezione diciamo sessuale tra questi animali per esempio se sono stati osservati fenomeni del tipo se tutti gli uccelli giardinieri riescono a fare un nido blu e quindi sono più o meno tutti uguali stanno sorgendo degli uccelli giardinieri che magari selezionano un pochino una cosa diversa che risalta rispetto agli altri e che quindi porta a una selezione diversa cioè negli animali sono stati visti degli effetti dovuti alla presenza dell'uomo nella selezione sessuale ma questo è l'esempio dell'uccello giardiniere magari diciamo non so se ci sono altri casi allora nello specifico diciamo che non ti so dire un esempio di specie che è stata influenzata a questo livello diciamo dall'uomo però sicuramente come hai detto tu diciamo che inizieranno ad essere introdotti nuovi caratteri che poi magari potrebbero essere selezionati capito quindi magari sì l'uccello giardiniere quella specie lì inizia ad introdurre magari un colore arancione magari ogni non so tre petali o tre oggetti blu inizia a mettere un colore arancione magari vede che quel colore arancione la femmina le piace la attira quindi la generazione dopo è possibile che un altro maschio vada a mettere due oggetti arancioni successivamente la generazione dopo tre oggetti arancioni fino ad andare a sostituire interamente diciamo il colore blu è un processo in continua evoluzione diciamo non si può ancora predire cosa succederà in futuro io di specie diciamo che sono influenzate direttamente dall'effetto antropico non ti so fare un esempio però sicuramente ci sono essendo anche l'uomo così espanso diciamo sicuramente un esempio c'è allora in realtà noi un esempio ce l'abbiamo intanto vabbè lei è Ilaria ha studiato da etologa da primatologa ecco e memore di insomma conferenze che abbiamo tenuto in passato una risposta insomma ce l'abbiamo allora intanto tutte queste piccole pezze piccoli pezzi di plastica che noi mettiamo in giro hanno un effetto sul comportamento al di là delle balene con le pancie piene di plastica e l'effetto sulla salute hanno anche un effetto sul comportamento ad esempio è stato girava sui social qualche tempo fa il video di un paguro che aveva scelto come casa un tappo un tappino di plastica penso fosse un tappo di un dentifricio una cosa simile e semplicemente aveva trovato quello quello aveva a disposizione quindi quello ha usato in Australia c'è un uccello che si chiama uccello lira che per impressionare la compagna riproduce i suoni che sente quindi ad esempio imita il canto di altri uccelli imita il canto del cucca burra imita anche suoni non direttamente di altri uccelli ad esempio imita le motoseghe o la macchina fotografica o i laser sono uccelli particolari abbiamo parlato della bioacustica della siringe degli uccelli ecco questo uccello lira ha una siringe che è qualcosa di incredibile è capace di riprodurre una quantità di suoni pazzesca e per impressionare la femmina appunto fa il suono della motosega come se noi andassimo da qualcuna per impressionarla è così quindi funziona si 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 è così che ho trovato la mia compagna sono andato la riga si assolutamente se avete altre domande prego vai mettile in difficoltà no molto semplice credo non ricordo più qual è la specie di uccelli di cui parlavi prima dove il maschio non riconosce la femmina lui ha colori sgargianti in più omaggio molto particolare ma la femmina invece è molto neutra e dicevi che quindi è tendente a libridazione questa specie giusto ne parlavi tu ah scusa ok scusa scusa infatti si si mi sono persa e no allora ti chiedo questo sempre in termini di evoluzione futura può portare alla diciamo all'estinzione della femmina e quindi alla generazione di nuove specie ci sono già dati a riguardo statistiche e stime dati a riguardo non lo so anche se in realtà non c'era in foto non c'era in foto non c'era in qualità allora dati a riguardo non lo so perché non ho guardato tanti studi la specie che c'era in foto non vi so dire che specie sia perché non sono un'esperta di uccelli però effettivamente questo è un classico esempio di compromesso tra bellezza e fitness cioè ci sono casi in cui la bellezza viene talmente estremizzata proprio per cercare di avere la meglio sugli altri maschi in cui può diventare un rischio effettivo per la sopravvivenza della specie e l'ibridazione potrebbe essere una causa nel senso che se un'ibridazione tra virgolette diciamo mettiamola in questi termini va a buon fine e quindi la prole che si produce dall'ibridazione dovesse essere fertile sì potrebbe anche esserci un evento di speciazione poi ovviamente ci vuole tempo e quindi l'evoluzione ovviamente nel tempo però sì potrebbe essere un fattore di rischio alto per l'estinzione di una specie o comunque la speciazione quindi creazione di nuove specie ma non so dare un esempio più specifico nel senso che effettivamente non ho letto di dati o cose che si stiano già notando di qualche specie di uccello del paradiso però sì assolutamente e quindi si collegava molto anche alla questione compromesso e anche qua aggiungo una cosa alcune specie sono state descritte solo dal maschio cioè pensando che fossero proprio una specie completamente diversa dalla femmina solo in seguito è stato poi compreso una volta visto il rituale del copiamento eccetera che c'era un dimorfismo sessuale così accentuato e non che erano specie completamente diverse se ne avete altre abbiamo ancora un'altra domanda poi basta solo una quindi sceglietela bene allora credo a questo punto che abbiamo soddisfatto le vostre curiosità spero e niente a questo punto invito il nostro presidente a invogliarvi grazie allora cerco di invogliarvi appunti di storie della scienza dietro un titolo apparentemente accademico oserei dire no? c'è una conferenza inusuale per incoscienza sono 12 anni che facciamo conferenza di solito parliamo di diciamo argomenti specifici legati alla scienza non abbiamo mai parlato della scienza in quanto tale e quindi da questo punto di vista volevamo cercare di recuperare in particolare con una domanda ben precisa in testa che spoilerò solo a voi che siete qua presenti potrebbe essere l'inizio della prossima conferenza quali sono quali sono le sfide scientifiche che la scienza deve affrontare in questo momento storico come si deve comportare la scienza da qui nei prossimi anni e da cosa può prendere diciamo che è stato in passato che è stata la storia della scienza che può aiutarci nell'affrontare e nello sviluppare la scienza del futuro è una domanda interessante magari non sarà facile anche lì dare delle risposte esaustive però sicuramente una delle cose che abbiamo visto con Matteo Pagliani che è il relatore della prossima conferenza filosofo e cultore di storia della scienza è che appunto ci sono delle similitudini che si sono viste nei secoli quindi in realtà così come magari uno può pensare che la storia come la storia normale diciamo di cui siamo abituati a trattare ha delle sue ripetizioni dei suoi parallelismi delle sue similitudini lo stesso potremmo aspettarci anche da un punto di vista di storia della scienza e sarà interessante cercare di capire come la scienza possa aiutarci ad affrontare i prossimi anni i prossimi decenni i prossimi secoli ok quindi la domanda che vi faccio per lasciarvi questa sera è secondo voi quali sono le sfide che la scienza deve cercare di affrontare venite la prossima settimana con le risposte da lì partiamo e vediamo se ci prendiamo va bene grazie a tutti grazie a Samuel grazie a Elena grazie anche a Nicolò e Laria che ci hanno ricordato anche altre conferenze che sono successe vi invito da qui dalla locandina c'è un QR code dove avrete tutti i nostri contatti facebook eccetera eccetera qualcuno annuisce quindi l'ha già visto seguiteci nei vari social e quant'altro su youtube in particolar modo trovate tutte le conferenze fatte in passato sono state tutte registrate così anche come quella di stasera le vostre domande sono state registrate e saranno disponibili a breve su youtube quindi se volete per esempio anche recuperare una conferenza chiamata Animal Love del 2018 con relatori Nicolò e Laria che veniva come dire veniva spontanea che è stata richiamata poco fa ok beh andate su youtube c'è c'è tutto c'è tutto e sono 12 anni di conferenze quindi andate e recuperate buona serata e grazie grazie Grazie.